Ciao a tutti, bentornati su Fumetti Senza Paura oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. Quelle di cui sto per parlarvi sono le letture migliori che ho fatto durante il 2023. È stato un anno molto complicato per il sottoscritto nella vita privata e questo ha ovviamente influito sulle letture che sono andato a fare durante l'anno e soprattutto sulla frequenza di lettura che io ho avuto durante il 2023. La mia passione però non è scesa neanche di un centimetro quindi nonostante i brutti periodi, le difficoltà e qualsiasi altra cosa mi sia successa ho continuato sempre e costantemente a leggere anche se poco alla volta in determinati periodi dell'anno. Questo è il motivo per il quale non avete visto sul canale i video con le letture migliori che facevo trimestre per trimestre. Ho preferito quindi concentrare tutte le opinioni sulle letture migliori che ho fatto nel 2023 in un video unico. Fate le dovute premesse, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link per raggiungermi sui miei social, seguitemi soprattutto su Instagram dove sono attivo H24 e vi aggiorno costantemente con tutte le letture che faccio e anche con tutti gli acquisti, le attività nerd che faccio nella mia vita e sulla fiducia ragazzi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non cambia niente, a me invece cambia tantissimo perché il vostro supporto è fondamentale per portare avanti questo progetto. Sono stato logoroico come al solito nelle premesse, di conseguenza cominciamo subito con le letture più belle dei fumetti usciti nel 2023 e che ho letto effettivamente nel 2023. L'ultimo weekend di gennaio di Bastian Vivè, edito per Baopublishing. Bastian Vivè è un autore che ho apprezzato tantissimo su fumetti come Una sorella, sempre edito da Baopublishing. In questa graphic novel l'autore ci racconta l'ultimo weekend di gennaio. Che cosa c'è di particolare nell'ultimo weekend di gennaio per tutti noi nerd ma non solo? Beh, ovviamente il festival di Angoulême, uno dei festival più importanti per quanto riguarda il fumetto a livello mondiale. La storia che ci racconta Bastian Vivè è quella di un fumettista che è presente ad Angoulême e che conosce un suo fan. Si innamora della moglie di questo fan e da qui nasce fondamentalmente una breve storia che nasce e muore all'interno di Angoulême. Una storia delicata ma anche cruda nel suo essere che mi ha colpito veramente tanto. Una rappresentazione cruda, disillusa ed intimista del mestiere del fumettista. Bastian Vivè prova a far immedesimare il lettore negli occhi del fumettista che vive questo tipo di manifestazione cercando anche di educare e, perché no, criticare il fan che ovviamente prende parte a questo tipo di manifestazione. Lo sfondo è quello di Angoulême, come abbiamo già detto. C'è una bella chiave romance che condisce il tutto e non posso far altro che inserire l'ultimo weekend di gennaio all'interno delle letture più belle che ho fatto durante il 2023. Burn Baby Burn di Lorenzo Palloni. Una storia veramente fuori di testa e un esercizio di stile da parte di Lorenzo Palloni e Gregio. Questa è una storia che Lorenzo Palloni ha impiegato veramente tantissimo tempo per realizzare. Ne ha parlato tra l'altro all'interno dell'intervista che gli feci al Comic-Con di due anni fa. La trovate qui sopra nelle schede nel caso foste interessati. Ovviamente Lorenzo Palloni non delude mai. La figata di questa storia è che viaggia su due piani temporali, passato e presente. 1992, più precisamente il 29 aprile, la città è scossa dalla notizia dell'assoluzione di quattro poliziotti bianchi colpevoli di aver malmenato Rodney King. Un verdetto che scatena la rivolta urbana e, con essa, gli omicidi che ricominciano col medesimo modus operandi di quasi 30 anni prima, il 1965, l'altro anno della nostra storia. A Los Angeles le rivolte si diffondono a macchia d'olio. Sid Bonanno, un giovane agente e suo padre Stan, a sua volta poliziotto, hanno altro a cui pensare. Un feroce assassino sta infatti approfittando del caos in città per uccidere prostitute bruciandole vive. Tratto da fatti di cronaca reale, Lorenzo Palloni ci narra la sua versione, di veramente romanzata, di quanto accadde a Los Angeles nel 1965 e nel 1992. I due eventi sono collegati e sono collegate anche le persone che prendono parte a questi eventi. Un noir politico che ti tiene incollato dalla prima all'ultima pagina. E la figata incredibile è l'idea che ha avuto Lorenzo Palloni per differenziare le due annate raccontate. Il presente ci viene narrato con questi toni arancioni, mentre il passato, invece, ci viene raccontato sui toni di blu. La cosa fighissima è che quando, ad esempio, ci sono delle fotografie che vengono visionate nel presente e ritraggono fatti successi nel 1965, le fotografie sono su tonalità di blu, mentre la narrazione, essendo nel presente, rimane sulla tonalità arancio. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo per proprio differenziare i due archi narrativi che vanno via via intrecciandosi all'interno della storia costruita da Palloni e che, ripeto, ti tiene incollato alle pagine. L'unica critica che mi sento di fare alla narrazione di Palloni è il fatto che questa storia è veramente tanto, tanto politica. Ci sono tante cose da sapere, Palloni le spiega tutte, però è facile cadere in spiegoni. Palloni, per fortuna, non li rende noiosi, però gli argomenti trattati all'interno delle pagine di questo fumetto sono veramente, veramente pesanti. Consiglio la lettura a chi ha voglia di immedesimarsi nella Los Angeles del 1965, ma la consiglio anche a chi ha lo stomaco forte perché all'interno di queste pagine succedono delle cose veramente, veramente forti, ripeto. Quindi lettura che finisce di diritto all'interno di questo video, all'interno delle letture migliori del 2023, però ragazzi ci vuole il pelo sullo stomaco per leggere questa storia. Complimenti a Lorenzo Palloni e complimenti anche a Saldapress per averci creduto. Il Viaggio di Shuna di Hayao Miyazaki, edito in Italia da Bao Publishing all'interno della collana Iken. Che dire di questo volume? È una gioia per gli occhi ogni tavola che viene sfogliata. Vedere il tratto di Miyazaki a colori è veramente goduria pura, ragazzi. Il Viaggio di Shuna è una storia che si ispira a una leggenda tibetana che si chiama Il Principe che divenne cane e ci narra di Shuna, principe di questo villaggio che una volta incontrato un viandante che giungeva all'interno di questo villaggio, riceve da questo viandante che, poverino, non stava bene ed era in fin di vita, dei chicchi d'orzo. Il viandante gli racconta di quest'orzo e di questa pianta che nasce rigogliosa più in là all'interno di questo mondo. Il popolo di Shuna in quel momento era in carestia, aveva anche difficoltà per quanto riguarda le colture. Di conseguenza il principe si incarica di compiere un viaggio alla ricerca di questo orzo. Seguiremo il Viaggio di Shuna alla ricerca di questi chicchi d'orzo attraverso le lande desolate di questo mondo, attraverso le fortezze e i personaggi che incontrerà durante il suo viaggio. Bellissimo, ragazzi. Ovviamente è stato come vedere un film. Yao Miyazaki nella postfazione ci dice proprio che voleva realizzare un film ispirandosi alla leggenda tibetana che è molto simile rispetto alla storia che andremo a leggere, con ovviamente alcuni cambiamenti che il maestro Miyazaki ha voluto apportare alla storia ma che purtroppo non si è mai concretizzata su pellicola. Per fortuna però ha deciso di scriverla e di disegnarla di conseguenza abbiamo avuto insomma la gioia di poterla leggere e di poter avere questo volume tra le mani. Il Viaggio di Shuna ovviamente lo consiglio ai fan dello studio Ghibli e di Hayao Miyazaki, ma non solo. Lo consiglio anche a chi vuole una bella storia di formazione, a chi vuole una bella storia on the road, a chi piace il fantasy e a chi piace seguire la crescita di un personaggio dalla sua ingenuità alla sua maturità. Assolutamente consigliato. Una delle letture più belle del 2023. Drifting Netcafè di Shuzo Oshimi. Goen ci ha degnato a gennaio 2023 dell'uscita dell'ultimo volume di quest'opera. L'unica che mi mancava, a parte tracce di sangue, da leggere di Oshimi. È la sua terza serializzazione lunga in ordine cronologico dopo Devil Ecstasy e Yuta Innova e dopo i volumi unici di Sweet Poolside, Avantgarde Umeco eccetera 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 e mi è piaciuto ovviamente tantissimo se no non era all'interno di questo video. La storia è fuori di testa come ci ha sempre abituato Oshimi. Qui però siamo ancora ai suoi inizi di carriera quindi troviamo un Oshimi ancora un pochettino acerbo. Questa cosa però non mi ha impedito di apprezzare tantissimo questo manga. Il nostro protagonista ha una vita normalissima e non ha nulla di che lamentarsi. Ha una moglie bellissima, in dolce attesa, un tetto sulla testa, un lavoro che gli permette di mantenere questo tetto sulla testa e la moglie in dolce attesa. Però purtroppo Koichi non è soddisfatto della sua vita. Continua a ripensare ad una sua cotta adolescenziale e non riesce a togliersela dalla testa. Una sera dopo aver litigato con sua moglie si fa un giro e finisce all'interno di un internet caffè. Neanche lui sa bene il perché volesse entrare all'interno di quell'internet caffè però il nostro Koichi ci entra. All'interno di questo internet caffè Koichi incontra Kao, la ragazza che continua ad essere nei suoi pensieri e la sua ex cotta delle medie. Questo è un incontro che ovviamente era totalmente inaspettato per il nostro Kao. E da qui comincia una storia totalmente assurda e fuori di testa che Oshimi riesce a costruire pagina dopo pagina e che ci tiene incollati alla trama di questo manga. Questo internet caffè a un certo punto scompare letteralmente dal quartiere in cui è per ritrovarsi all'interno di una landa totalmente desolata e fuori da ogni mondo. Non si capisce come questo internet caffè possa essere finito all'interno di questo limbo. Non si capisce come Kao e Koichi sono legati a questa cosa e non si capisce come neanche il padrone dell'internet caffè si renda conto di che cosa stia succedendo. Da qui si vede tutta la follia umana emergere fuori. Gente che vorrà predominare sugli altri la follia umana che degenererà incredibilmente facendo emergere ovviamente la legge del più forte. Un bel thriller, non so se considerarlo fantascientifico o fantasy sicuramente assurdo con ovviamente tutte le varie caratteristiche care adoshimi quindi tematiche di sessualità e soprattutto senza filtri come ci ha abituato Shuzo Shimi all'interno dei suoi racconti. Bello, bello, bello assolutamente una delle letture migliori che ho fatto nel 2023. Spider Punk, Anarchy in the USA ragazzi, questo non potevo non inserirlo all'interno di questo video è un piccolo brusatino, me ne rendo conto ma è una storia che mi ha divertito veramente tantissimo leggere. Siamo su terra 138 il protagonista di questa storia è Hobby Brown lo Spider Punk e siamo in una terra totalmente anarchica governata dal punk dall'anarchia e da tutto quello che ne concerne tantissime citazioni punk, rock, metal e quant'altro e vedere Spider-Man combattere contro i nazi è qualcosa di fighissimo non potevo assolutamente non inserire questa lettura all'interno di questo video anche perché non abbiamo solamente Spider-Man abbiamo Miss Marvel abbiamo Daredevil abbiamo Capitan Anarchy che ovviamente è Capitan America il villain di questa storia è Taskmaster che sembra tantissimo Doyle dei Misfits ragazzi che figata e cercherà di mettere a ferro e fuoco terra 138 Hobby Brown e i suoi amici cercheranno di impedirglielo ma perché Taskmaster sta cercando di mettere a ferro e fuoco terra 138 bisogna capirlo bisogna capirlo perché Norman Osborn il presidente degli Stati Uniti è morto e quindi bisogna capire il perché Taskmaster vuole fare tutto questo macello gli autori sono Cody Ziegler per quanto riguarda la storia e Justin Manson ai disegni fanno un lavoro ovviamente super egregio tra le pagine di questo fumetto e consiglio tantissimo la lettura di questa storia a tutti i fan dell'heavy metal del punk rock di Spider-Man e della Marvel tra le pagine di questo fumetto sicuramente vi divertirete tantissimo Batman e Joker The Deadly Duo il duo mortale in italiano edito da Panini Comics per DC Black Label Mark Silvestri storia e disegni Arif Prianto ai colori una storia dalle tinte horror che vedrà il nostro Cavaliero Oscuro allearsi con il Joker la loro rivalità è leggendaria quindi perché si uniscono? perché un nemico creato totalmente nuovo da Mark Silvestri in questa storia ha fatto sparire Harley Quinn e dopo non solo lei ragazzi perché ha fatto sparire Harley Quinn? come mai? e soprattutto chi è questo nemico? lo scopriremo all'interno di queste pagine ovviamente e questo porterà Joker e Batman ad allearsi per cercare di riportare Harley Quinn da Joker e soprattutto per sconfiggere questo nuovo nemico creato ex novo una storia dalle tinte super horror creata da Mark Silvestri autore di Uncanny X-Men e The Darkness famosissimo perché è nel team di autori che creò Image Comics qui alle prese con il crociato incappucciato ha creato una fantastica storia horror è stata probabilmente la lettura su Batman più soddisfacente che ho fatto nel 2023 complice anche una parte grafica spettacolare Mark Silvestri ha un tratto che a me piace tantissimo e i colori di Arif Prianto sono azzeccatissimi su questo stile pittorico che rende Gotham veramente ancora più spettrale di quanto non lo sia già e che rende molto dinamici i personaggi che ci girano dentro è una lettura che mi ha tenuto compagnia per parecchio tempo perché comunque Mark Silvestri è abbastanza verboso per quanto riguarda insomma i dialoghi e quant'altro e è una lettura che mi ha stupito per come Mark Silvestri abbia deciso di utilizzare anche i personaggi comprimari del Cavaliero Oscuro come ad esempio Nightwing piuttosto che Batgirl piuttosto che Jim Gordon eccetera 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 molto figo anche il ruolo che ha avuto la GCPD quindi la polizia di Gotham con a capo il Tenente Bullock per affiancare le indagini del Cavaliero Oscuro alla ricerca di questo villain che sta mettendo a ferro e fuoco Gotham e che è contro ovviamente il buon Batman e anche contro il Joker il perché non si sa lo scopriremo all'interno di queste pagine anche questa una delle cose più belle che ho letto nel 2023 e in assoluto la lettura DC Comics uscita nel 2023 che ho preferito prima di passare ai premi con la lettura migliore piuttosto che il miglior manga e il miglior fumetto americano eccetera 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 vorrei parlarvi di due letture che ho apprezzato tantissimo nel 2023 ma che non sono uscite all'interno di quell'anno cominciamo con Batman i tre Joker l'ho recuperato quest'anno ragazzi non ho potuto fare altrimenti di Geoff Jones Jason Fabok e Brad Anderson questa qui è una storia fuori da ogni concezione logica sulla sede di Darkseid Batman scopre che non c'è un solo Joker e lo scopriamo anche noi lettori all'interno delle Darkseid War avvenute durante i New 52 quindi all'interno dell'universo precedente al Rebirth che c'è stato per quanto riguarda DC Comics questa storia ci ha messo tantissimo ad arrivare Geoff Jones ci ha messo tantissimo a scriverla e sostanzialmente ci racconta il perché e chi sono i tre Joker dopo che Batman ottiene questa notizia cicatrice dopo cicatrice ripercorre nei suoi ricordi i momenti salienti della sua vita e della sua carriera dallo spaventapasseri alla morte di Jason Todd al primo incontro con Catwoman alla schiena spezzata per quanto riguarda la saga di Nightfall con Bane e ovviamente all'uccisione dei suoi genitori non è il solo a ripercorrere la sua vita e la sua carriera dopo aver scoperto questa cosa anche Barbara Gordon fa lo stesso una Barbara Gordon che vediamo comunque in piedi sulle sue gambe non più in sedia a rotelle che ripercorre insomma i 13 eventi di The Killing Joke non solo lei ovviamente ma anche Jason Todd ripercorre la sua vita e la sua carriera ricordandoci di come il Joker abbia messo fine alla sua vita questi tre personaggi sono ovviamente i protagonisti della nostra storia e i tre Joker sono collegati a loro tre ho apprezzato tantissimo l'inserimento dei vari elementi che collegavano i tre personaggi con i tre Joker e di conseguenza la narrazione degli eventi da parte di Geoff Jones una storia che è fondamentalmente un grandissimo thriller psicologico e anche di azione che mette di fronte dei nemici storici e mette di fronte ad ognuno dei nostri protagonisti le proprie paure le proprie insicurezze e le proprie fragilità non voglio dirvi di più perché sicuramente il finale è la parte che mi è piaciuta un pochettino di più anche se ha fatto storcere il naso a molti non voglio rovinarvi l'esperienza di lettura vi dico solo che se siete fan dei Batman e della Bat Family e se siete fan ovviamente di Joker dovete assolutamente leggere questo volume perché è una delle storie che diventeranno un classico per quanto riguarda l'universo DC in generale sempre panini comics questa volta Disney abbiamo Foglie Rosse di Claudio Sciarrone di questo volume vi ho già parlato all'interno di un video che trovate qui sopra nelle schede questa storia ragazzi entra assolutamente all'interno delle letture più belle che ho fatto nel 2023 io non sono un grandissimo lettore Disney se seguite questo canale lo sapete perché parlo raramente di Disney all'interno di questo canale però Foglie Rosse ed il tratto di Claudio Sciarrone mi ha scaldato veramente il cuore una storia molto bella una storia di gruppo corale di crescita di amicizia e una storia che come ho già detto vi scalda il cuore se volete saperne di più andate a vedere il video che ho realizzato è uscito il secondo volume il sequel di Foglie Rosse non vedo l'ora di leggerlo ed eccoci ai premi del 2023 i fumetti senza paura awards l'anno scorso vi sono piaciuti un sacco vi ringrazio tantissimo per il feedback e per il supporto sul video dell'anno scorso tra l'altro se volete io vi consiglio di andare a vederlo perché lo trovate qui sopra nelle schede all'interno ci sono un sacco di fumetti che consiglierei anche quest'anno sono state delle letture l'anno scorso fantastiche e soprattutto i tre titoli che ho scelto l'anno scorso insomma sono dei titoli che consiglierei ad occhi chiusi tutto l'anno tutti gli anni quest'anno nonostante i premi siano quattro abbiamo tre fumetti perché uno si aggiudica due premi esattamente come l'anno scorso quindi bando alle ciance andiamo a vedere quali sono i tre migliori titoli che ho letto nel 2023 il miglior fumetto italiano lo riceve trincea ibiza con nove maghi un'autoproduzione che mi ha folgorato quest'anno ragazzi nove maghi è assolutamente una storia fuori di testa come piace a me ma con delle idee assolutamente fuori dagli schemi non avevo mai letto qualcosa di simile ci troviamo di fronte a nove autori quelli ovviamente del collettivo di trincea ibiza che realizzano una storia corale fuori di testa come vi ho già detto abbiamo nove autori e nove personaggi nove maghi per l'appunto questi nove maghi sono tutti quanti realizzati dai nove autori coinvolti ovvero Spugna Luchop Jazz Martoz Tomigan Jacopo Starace Marco Caselli Paolo Cammello e Sdolz siamo ad Abracadalcatraz una fortezza che rinchiude i nove maghi più pericolosi del mondo un giorno i poliziotti i guardiani di questo Abracadalcatraz vanno ad aprire le celle dei vari detenuti e qui cominciamo a fare la conoscenza dei nostri maghi Gian Macigno il potente Magnaghi maestro Eckhart fulminata dal Gento Agnus Balam scioglilingua Victor von Cantarellus Lube Wallace e Mimmi tutto ciò verrà trasmesso in diretta tramite un canale che fa il verso ovviamente a Twitch il canale Witch per il sollazzo degli spettatori ne rimarrà ovviamente uno solo che avrà un desiderio da poter esprimere la particolarità di questo fumetto è che i personaggi una volta che interagiranno all'interno della plancia sulla quale si stanno muovendo per giocare che è divisa per colore a seconda del mago quando si ritrovano sulla stessa casella entrano nel subconscio del personaggio al quale è collegato quel colore la particolarità fumettistica di questa cosa è che entrando nel mondo di quel determinato mago quel mondo è disegnato totalmente dall'autore che rappresenta quel mago gli altri personaggi invece continuano ad essere disegnati dagli altri autori ci muoveremo quindi di mondo in mondo di subconscio in subconscio all'interno di questa plancia per cercare di vedere chi sarà il vincitore di questo maxigioco una figata incredibile un'idea pazzesca da parte di Trincea Ibiza e un fumetto che mi è piaciuto tantissimo un'autoproduzione che si merita la miglior lettura italiana del 2023 e che non posso far altro che consigliarvi ma a cuore non aperto stra aperto miglior lettura manga un volume unico un volume unico di un autore che ha fatto una serie che è sulla bocca di tutti per quanto riguarda gli ultimi anni ovvero Chainsaw Man avrete già capito di che cosa sto parlando non potevo non mettere Goodbye Eerie come lettura manga migliore del 2023 di Tatsuki Fujimoto edito in Italia per Star Comics Goodbye Eerie è la storia di Yuta il nostro protagonista un ragazzo che purtroppo sta assistendo lentamente alla malattia degenerativa che ha la madre decide quindi di filmarla su richiesta della madre lui è appassionato di cortometraggi e vuole assolutamente registrare il suo quindi registrerà quello degli ultimi giorni della mamma tu decidi come ricordare una persona tu decidi che taglio dare a un racconto il nostro Yuta decide di presentare questo cortometraggio al festival scolastico rappresentando gli ultimi giorni di sua madre questa cosa attirerà l'attenzione di un altro personaggio ovvero Eerie e il cortometraggio sugli ultimi giorni della madre non riscuote il successo che Yuta sperava al festival scolastico una persona però è rimasta molto colpita dal suo cortometraggio Eerie e tra di loro nasce una bella amicizia Yuta ha sempre costantemente la telecamera in mano vuole sempre costantemente riprendere per creare il suo cortometraggio Eerie quindi gli propone di fare un film su di lei di conseguenza Yuta comincerà a filmare Eerie e a filmare la loro storia un volume toccante che ci insegna che ognuno di noi può scegliere come ricordare una persona una storia profonda che mi ha scaldato il cuore che mi è piaciuta veramente tantissimo e che rileggerei altre 10 20 30 volte complimenti a Tatsuki Fujimoto e a Star Comics per avercelo portato in Italia grazie anche quest'anno la lettura migliore del 2023 e la lettura migliore americana del 2023 sono a pari merito questo è l'unico caso non potevo fare altrimenti ragazzi non potevo non mettere questo volume come lettura migliore del 2023 e come lettura americana migliore del 2023 nonostante questo volume non sia uscito nel 2023 è una storia che è stata letta da me a inizio 2023 che purtroppo è un'uscita del 2022 e che nonostante questo qualsiasi altra lettura americana del 2023 uscita nel 2023 non è riuscita a scalzare da la vetta ragazzi non potevo non mettere wonder woman terra morta al primo posto per quanto riguarda le letture più belle fatte nel 2023 daniel warren johnson un nome una garanzia wonder woman si risveglia da un sonno che è durato secoli e si ritrova in una terra morta una terra desolata dove vige la legge del più forte non esistono più supereroi qualsiasi amico di diana non c'è più diana si ritrova quindi da sola e la terra è ridotta ad un deserto nucleare i sopravvissuti tentano di sopravvivere all'interno di questo deserto diana una volta raggruppati i sopravvissuti che trova nelle vicinanze e non solo decide di portarli a temishira a temishira però non l'attende sua madre e neanche le sue sorelle bensì qualcosa di molto diverso incredibile la narrazione di daniel warren johnson incredibile i disegni di daniel warren johnson incredibile l'idea che ha avuto questo autore e il modo in cui l'ha narrata una delle storie più belle se non in assoluto la storia più bella che io abbia mai letto su wonder woman in assoluto una delle mie storie preferite della dc comics è un autore che ci dà una visione post apocalittica e quasi fantasy di wonder woman ma la vera domanda è come mai wonder woman potrebbe essere responsabile di questa terra morta ragazzi prendete questo fumetto e leggetelo perché mi ringrazierete una volta che sarete arrivati all'ultima pagina benissimo ragazzi anche questo video finisce qui grazie per aver guardato è stata una faticaccia a fare questo video quindi se vi è piaciuto vi prego lasciate un bel like per sostenermi e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale colgo l'occasione per ringraziarvi tantissimo di tutto il supporto che mi avete dato durante tutto il 2023 nonostante la mia incostanza nella pubblicazione dei video è stato un anno veramente difficile sul fattore personale per me sul fattore lavorativo sul fattore vita privata in generale se non ci fossero stati i fumetti ragazzi sarebbe stato ancora più difficile quindi meno male che ogni volta che apro uno di questi volumi mi ritrovo totalmente da qualche altra parte a vivere delle avventure fighissime e sono super contento di poterle condividere con voi accendendo una telecamera nel 2024 ci saranno tantissime novità non vedo l'ora di potervele dire e uno dei buoni propositi che vorrei dire in video in modo tale che rimanga impresso da qualche parte è quello di pubblicare tutti i video che ho scritto sul computer perché ne ho un bel po' pronti e devo solamente registrarli quindi incrociamo le dita speriamo che il 2024 sia l'anno buono per portare avanti questi progetti voi non mollate vai ragazzi mi raccomando ci vediamo ad un prossimo video e grazie per essere sempre e costantemente dietro quello schermo a guardare un appassionato che blatera di quello che ama di più i fumetti ciao ragazzi e alla prossima ciao 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 ciao